L'attore americano nei panni di Dracula diventa virale per la sua somiglianza incredibile con il noto illusionista italiano. Louis Jukas Casella che Jukas Casella stesso è solo uno degli innumerevoli commenti all'immagine di Nicolas Cage nei panni di Dracula nel nuovo film Renfield di Chris McKay. Un personaggio, quello interpretato da Cage, che è diventato immediatamente virale. Soprattutto in Italia. Per essere stato scambiato da tutti per il noto illusionista siciliano. Una somiglianza che ha fatto impazzire tutti che, alla vista dell'immagine di Cage nei panni del conte vampiro per eccellenza, non hanno potuto che scambiarlo per l'iconico illusionista che è tornato alla ribalta dopo aver partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello Vip riacquisendo una certa popolarità dopo una lunga assenza dalla tv. al post Instagram di Ghetto Trash, che ha pubblicato la foto dell'attore in versione Dracula con la scritta. Questo è Nicolas Cage nel nuovo film di Dracula ma io riesco solo a vederci Jukas Casella. So di non essere il solo. In tantissimi hanno commentato. Increduli. Perché non è lui? E c'è chi è arrivato a dire. In realtà è Jukas Casella nei panni di Nicolas Cage che vagamente somiglia a Dracula. Tra i tanti commenti ironici c'è anche chi ha detto. All'inizio pensavo che fosse Jukas Casella che imitava Marilyn Manson. Poi ho letto la didascalia. Finora il vero Jukas non ha ancora lasciato nessun commento sulla sua somiglianza con Cage nel nuovo film Renfield ma, anche se non dovesse essere d'accordo con l'opinione comune, questa nuova inaspettata ondata di popolarità, gli farà, senza dubbio, piacere. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.